E' toccato sia al sindaco di Salerno Vincenzo Napoli che a quello di Possiglione Mario Pepe inviare un messaggio di rassicurazioni alle popolazioni dopo la psicosi generata da un presunto caso di contagio da coronavirus. Il sindaco di Possiglione Mario Pepe in un posto su Facebook riferisce l'esito negativo degli esami e tranquillizza la comunità così come ha fatto anche il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli non appena ufficializzata dalle autorità competenti la negatività del test al paziente sospettato di un possibile contagio partito da Possiglione e giunto al pronto soccorso di Salerno prima di essere trasportato all'ospedale Cotugno di Napoli. Vogliamo rassicurare la comunità al riguardo confortati da pareri medici e diagnosi certe. Hanno scritto entrambi i primi cittadini invitando a diffidare da notizie non ufficiali voci di corridoio e speculazioni varie. L'overdose di informazioni sul coronavirus spesso finalizzata alla ricerca della notizia distrae dai numeri e dati sicuri confermati dalle istituzioni nazionali e internazionali. Hanno fatto notare entrambi i sindaci dare credito solo alle informazioni ufficiali provenienti dalla comunità scientifica e dalle istituzioni per evitare psicosi ed allarmismi. Questo è il consiglio che parte dai due primi cittadini. Sulla vicenda va però registrata anche la dura presa di posizione dell'Associazione a tutela dei consumatori HELP. Il vicepresidente Lorenzo Forte ha attaccato duramente il presidente dell'associazione di volontariato Humanitas che in diretta ha lanciato il primo caso a Salerno probabilmente facendo riferimento al suo primo intervento con la speciale attrezzatura per evitare il contagio ma in maniera equivoca facendo intendere alle migliaia di persone che hanno visto il video divenuto virale in poche ore che potesse trattarsi di un contagiato. Nel video tra l'altro si sentono apprezzamenti poco piacevoli nei confronti delle donne. Forte per questo ha chiesto a diverse istituzioni di prendere provvedimenti.